10 nicchie più profittevoli per realizzare un cash cow channel make money online, quindi fare soldi online life hacks gaming, tutto il mondo del gaming, curiosità eccetera eccetera paranormale, numero 6 troviamo il mistero che è un po' simile scienza, anche qui potete realizzare veramente una miriade di video senza metterci la faccia nel quarto post troviamo health and fitness, quindi benessere e fitness e ora siamo su il podio, sugli ultimi tre